Le primarie sono una grande occasione di partecipazione, lo hanno dimostrato anche quelle del Partito Democratico. La nostra macchina organizzativa sta andando avanti, oggi si vaglieranno le candidature che sono arrivate per le primarie del Popolo e della Libertà. L'unica riflessione che dovremmo tutti insieme fare, siccome si tratta di primarie per la Presidenza del Consiglio, è qualora il Presidente del nostro partito, Berlusconi, decidesse di tornare in campo e quindi di candidarsi alla Presidenza del Consiglio, dovremmo valutare con l'ufficio di Presidenza se proseguire nelle primarie in cui il Popolo e la Libertà ha fortemente creduto oppure non farle.